Ed eccoci pronti al via di una nuova puntata speciale, perché speciale era anche l'artista a cui la dedichiamo. Si tratta di Francesco Nuti, che se n'è andato esattamente il 12 giugno, uscendo di scena con una delicatezza come nel suo stile, uno stile d'attore certo, ma anche di un protagonista a suo modo nel mondo della musica, come testimonia la sua produzione. Un repertorio in cui, lo diciamo subito, si trova un brano iconico che abbiamo scelto per ricordarlo, ossia Sarà per te. Si tratta di una canzone che Francesco Nuti aveva portato a Sanremo nel 1988 e lì era piaciuta così tanto a un'artista assoluta come Mina, talmente tanto da voler poi provare a interpretarla. Poi, naturalmente, la versione di Mina è diventata un must, per qualcuno addirittura la definitiva, come spesso è successo quando la cantante ha preso in mano, insomma, in qualche modo un brano, già edito e lo ha fatto proprio. Ma torniamo a Nuti e alla sua interpretazione altrettanto toccante. Lui cantò questa canzone accompagnato dolcemente dalla chitarra in un modo molto intenso e in un crescendo anche proprio di intensità. Intanto ricordiamo che l'attore Fiorentino si è spento dopo una lunga malattia all'età di 68 anni e vogliamo anche ricordarlo nella sua carriera. Noto soprattutto per la comicità, aveva iniziato come cabarettista nel trio I Giancattivi e con lui c'erano Alessandro Benvenuti e Atinacenci. Nell'81 il trio si era cimentato anche nel cinema, esordendo con Ad Ovest di Paperino, con la regia di Alessandro Benventi. Dopo la prima uscita cinematografica, Nuti è diventato protagonista senza i compagni di avventura di tre film di grande successo, ossia Madonna che silenzio c'è stasera, Io chiara e lo scuro e Son contento, tutti diretti da Maurizio Ponzi. Dopo questi primi tre successi, Nuti è passato alla regia e ha realizzato una serie di film come per esempio Casa Blanca, Casa Blanca, Tutta colpa del paradiso, Stregati dell'86, Caruso Paskowski, Di padre polacco dell'88, Willy signori e vengo da lontano dell'89 e Donne con le gonne del 91. Tutte pellicole di enorme riscontro sia al botteghino che poi anche nell'opinione comune che lo hanno portato a guadagnare parecchi premi. I successivi anni 90 non sono stati però così fortunati e di qualità e così inuti, non ha ottenuto più lo stesso successo della decina precedente. Poi nel 2006 una caduta domestica gli ha provocato un ematoma celebrale che lo ha condizionato nel movimento e anche nella parola, costringendolo anche ad abbandonare le scene, se non per apparizioni molto sofferte e da questo stato non si è più ripreso. Oltre che attore e regista però Nuti sappiamo alle spalle la carriera di cantante che lo ha visto calcare il palco del Festival di Sanremo proprio nel 1988, come detto con la canzone Sarà per te. Ecco che il brano si classificò al dodicesimo posto nell'anno della vittoria di Massimo Ranieri con Perdere l'amore. La canzone firmata dal cugino Riccardo Mariotto è stata appunto poi reinterpretata anche da Mina nel 1989, dunque l'anno successivo. Per noi invece è arrivato il momento di riascoltare l'originale.